Nei due anticipi del sabato sera vittoria di Trento che supera agevolmente Sassari con una gara assolutamente di prestigio 9 a 2 la partenza dei padroni di casa poi da Dolomiti Energia sale a più 13 già a metà della contesa al trentesimo ancora all'allungo Sassari prova nell'ultima frazione a recuperare qualcosa ma non riesce poi a concretizzare la rimonta vittoria importante quindi per Trento male invece la Segafredo che perde per la terza volta consecutiva nel campionato tra le mure amiche della Segafredo Arena questa volta contro Brindisi che segna 12 punti in più rispetto alla propria media stagionale nel campionato e porta a casa una gara quasi sempre condotta soprattutto grazie anche all'ottima prestazione oltre l'arco per Brindisi più che mai conferma il secondo posto solitario in attesa del turno di Milano ha sempre fatto roto grazie a tutti Grazie a tutti.